Ne abbiamo sentito parlare spesso ed oggi con le nostre pillole di etichettatura andremo a capire meglio che cos'è la Nutrifon Battery, ovvero la proposta italiana di sistema di etichettatura nutrizionale che risponda ai modelli proposti ed introdotti da altri Paesi europei. Precisiamo innanzitutto che si tratta di una forma volontaria di espressione e presentazione del contributo energetico e dei valori nutritivi di un dato alimento sul fronte del pack, ovvero nel campo visivo principale della mia confezione. La Nutrifon Battery proposta dall'Italia è, come anticipato, un modello volontario ed aggiuntivo rispetto alla classica e per lo più obbligatoria etichetta nutrizionale posta generalmente sul retro del packaging. Il Regolamento europeo numero 1169 del 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori dispone infatti che oltre a 100 grammi o 100 ml la dichiarazione nutrizionale possa utilizzare altre forme di espressione. Infatti il regolamento specifica l'articolo 35 che è possibile, su base volontaria, integrare sul campo visivo principale alcuni elementi della dichiarazione nutrizionale, quali il contributo energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. Questo per aiutare i consumatori a giudicare a colpo d'occhio le informazioni nutrizionali essenziali al momento dell'acquisto. A norma dell'articolo 35 del Regolamento, gli operatori del settore alimentare possono usare queste forme di espressione e presentazione supplementari con simboli e forme e gli stati membri possono raccomandarne il loro uso, purché siano rispettati i requisiti del Regolamento di facile comprensione al consumatore, devono essere basati su dati scientifici fondati e il loro impiego non deve indurre in errore il consumatore. Il sistema italiano della Nutri-Inform Battery è stato quindi progettato al fine di rispettare quanto più possibile le indicazioni fornite dal Regolamento. Ma come è strutturato questo logo? Il logo è così strutturato. Nella prima parte viene riportata la porzione alla quale corrispondono i valori sottoriportati. Attenzione, nel manuale d'uso pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico a gennaio del 2021 c'è una parte specificatamente dedicata a questo aspetto, definendo uno standard di porzione specifico per il prodotto alimentare, in modo tale da evitare che ogni azienda assuma come porzione uno standard differente. Nel manuale è chiaramente specificato che le aziende, al fine di gestire in maniera corretta il concetto di porzione, possono rifarsi alle linee guida per una sana alimentazione pubblicate nel 2018. Inoltre, vi sono anche delle definizioni specifiche per quanto riguarda prodotti in grandi confezioni oppure confezionati in monoporzione. A seconda della tipologia di alimento, devo quindi scegliere la porzione più corretta a seconda dello stesso. Nella parte successiva del nostro logo relativa alla Nutrifone Battery, abbiamo 5 box, ciascuna dei quali riporta l'indicazione quantitativa, ovvero il valore numerico, di energia espressa in kJ e in kcal, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale. Il tutto riferito alla porzione precedentemente definita. Parallelamente, sotto ognuno di questi parametri viene riportata la percentuale di questi valori apportati da ogni singola porzione consumata rispetto alla quantità giornaliera di riferimento. Per le quantità giornaliere di riferimento, dobbiamo rifarci a quanto definito dal Regolamento 1169 del 2011 all'Allegato 13. La parte carica della batteria rappresenta graficamente la percentuale di energia o nutrienti contenuti nella singola porzione, permettendo di quantificarla anche visivamente. Per una dieta quotidiana equilibrata, la somma di ciò che si mangia durante il giorno non deve superare il 100% delle quantità di assunzione giornaliera raccomandate. In tal modo, si evidenzia un legame inequivocabile tra i tenori presenti nell'alimento in termini di energia e dei singoli nutrienti e la rappresentazione grafica della percentuale assunta dalla stessa energia e dei singoli nutrienti rispetto al fabbisogno giornaliero consigliato. Il manuale d'uso dispone poi di una serie di requisiti grafici a cui la mia Nutri-Info Battery deve sottostare e che quindi è obbligatorio da considerare in fase di progettazione grafica della mia etichetta. Non posso riprodurre solo una parte del marchio. Non posso modificare le caratteristiche grafiche del marchio, sia per quanto riguarda la forma che il colore, ma sia anche per quanto riguarda la posizione degli elementi figurativi e la forma tipografica del marchio stesso. Non posso andare ad aggiungere al marchio un testo o altre indicazioni che non facciano parte del marchio stesso. Devo poi ricordarmi che la terminologia è normata, come da regolamento europeo 1169 del 2011. Per quanto riguarda invece il design e il colore, verranno colorati solo i riquadri contenenti le informazioni sui grassi, grassi saturi, zuccheri e sale. Il colore impiegato deve essere blu. Il processo utilizzato per colorare i riquadri dipenderà dal tipo di materiali di imballaggio e dagli altri colori utilizzati sulla confezione, con determinati riferimenti poi alla quadricromia e al contrasto rispetto al background dell'etichetta. Il decreto prevede inoltre alcune esclusioni per quanto riguarda il possibile utilizzo del logo sui prodotti, escludendo dal campo di applicazione alimenti confezionati in imballaggi la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm², oppure prodotti a denominazioni di origine protetta o IGP o specialità tradizionali garantite, per evitare che il consumatore non comprenda o non riconosca il marchio di qualità a causa dell'applicazione di tale logo. Il titolare del marchio è il Ministero dello Sviluppo Economico che lo gestisce. L'utilizzo dello stesso da parte degli operatori è volontario e a titolo gratuito. In fase di prima applicazione, la comunicazione relativa al voler impiegare la Nutri-Inform Battery deve essere inviata al Ministero della Salute e successivamente, previ opportuna comunicazione, verrà utilizzato un sistema di notifica dedicato, attraverso il quale l'operatore del settore alimentare dovrà fornire tutte le informazioni necessarie all'attività di monitoraggio.